Ogni anno circa 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono in mare mettendo in pericolo l'ecosistema marino, rovinando le spiagge e danneggiando la salute degli esseri umani e degli animali. Da Punta Licosa ad Acciaroli sono stati raccolti 200 kg di plastica, un lavoro che è durato quattro mesi. In queste acque sono stati trovati tanti tipi di plastica, polipropilene, HDPE, PVC, PL, PET, IDPE. A compiere questo nobile lavoro sono stati Fabio Armano con l'Associazione Ambiente Trasversale e con l'aiuto di Amedeo e Salvatore Radano che si sono occupati di cucire tutti i sacchi. Importante anche il supporto di Fernanda Quaglia con Plastic Free Campania, un'operazione minuziosa per eliminare il totale di 15 quintali di plastica raccolta in quattro mesi. Inoltre i rifiuti sono stati riposti in sacchi realizzate con delle reti da pesca usate per non usufruire ulteriormente di contenitori di plastica. Festeggiamo la terra rispettandola ed onorandola ogni giorno con pensieri, opere ed azioni. Plastiche raccolte tra Punta Licosa e Acciaroli Mezzatorre da Fabio Armano e alcuni amici a cui va sempre la mia incondizionata stima e disponibilità. In qualità di cittadino, operatore turistico e amministratore comunale vi ringrazio vero di cuore. Questi i ringraziamenti sui social dell'amministratore comunale Pasquale Tarallo.